Ciao ragazzi ci siamo? Si! Yes! E poi siamo pronti voi? Pronti? Motore! Allo wheel cucina 1 prima! Ciao a tutti ragazzi! Come state? Bentornati e benvenuti in questa nuova puntata di Our Kitchen! Stop! Per me è buona e ne facciamo una di backup. La facciamo? Si la facciamo di backup giusto per averla. Adesso si sentiamo benissimo con quattro. Ragazzi per me è buona però ne facciamo un'altra di backup se siete d'accordo dalla regia. Sì sì questa è l'ottima, la facciamo di assaggiare, però non c'è un brazzo. Lo so, lo so. Allo wheel cucina 1 seconda. Azione! Cioè nel senso, se le gambe non c'è questo. Cioè cammina. Infatti Fede, se quella linea teniamo esattamente dove la presa adesso frana, poi dopo l'accendiamo perché così non si vede. Se dopo l'accendiamo, lentamente entra dentro. Un'unica cosa, è vero che abbiamo altri ingredienti. Il problema è che se riesce, come ci ha detto Poco su Junior, qua poi sarà da pulire i cavi. Ah, però no, però no. Quindi secondo me dovrebbe essere... Buona prima. Mi erano rischio a dire che sarebbe meglio questo giorno. Quindi, no, quindi i motori sono partiti, dateci conferma dell'audio. Ci siamo. Scienza Halloween 1 terza. Facciamo di proprio che... Io faccio... Io faccio... Io faccio così... Io faccio così... E diciamo, scusate... Comunque... Noi ne vada... Perfetto. Perfetto. Ci sta? Perché faccio proprio così. Noi... Noi... CosaQui che cosa ne vedeva? CosaQui? Sì... Noni ognette ria? Perfetto è ungo? Noi... Non, ci sia... Un mondo! Intiare, sua... Un mondo! Se l'avevo fatta! Se l'avevo fatta! Fai vedere tipo che finta di assaggiarlo Guarda! Guarda! Vai, vai, vai! Dai, non è che siamo qua a scherzare noi E' scherzo cazzo, la città si senti fino a... Certo, abbiamo usato un'altra mezza La ricetta è una 500ml Ho visto le cose precedenti Ho visto il gelato Perciò, te la trasporterò Quella tablet box, qui Riusciamo a farla tutta dall'inizio Vi ricordate? Va bene Cioè, andiamo subito filati filati Quindi, siete qua Nella mia stanza, meravigliosa Fai apparire su, anche velocissimo Se ti metti delle cose non c'è problema Ma la facciamo ancora più asciutta Perché sta diventando veramente linda Siete andati avanti tantissimo Adesso, prima Hai visto che? Regia! Benissimo Allora, Karl De Snorl Non lo diciamo proprio, c'è anche l'amico Da dove attacchiamo? Eh, da lei Mi sa che... da lei che taglia Nel frattempo Ale suggeriva Con la tua Camera Di prendere dei... Dettagli? Dei dettagli su Giorgio Mentre aspetta Suani Magari Ok, ma le faccio... tolgo dal cavalletto? O sposto il cavallo? No no, farli anche... Da qua? Sì, sì E poi... Aspetta E poi se riesci Però a questo punto forse è meglio con questa qua Magari dei dettagli Allora gli facci fare un po' di cose Sì, dei dettagli anche magari... Sì Allora, quelli principali sono su Giorgio Mi servono Quindi... Ok, allora facciamo così Così come sei Lo guardi Fai... Cioè, ti autospaventi tipo Bello, bello Capito? E poi se vuoi fare altri dettagli tipo gatto Sì, gli faccio accarezzare il gatto Che lo grazia magari Ciao